Il tratto comportamentale numero 3 da acquisire per togliersi la sindrome del bravo ragazzo è il non inseguire l'approvazione altrui quindi il non ricercare l'applauso delle altre persone l'approvazione degli altri, il consenso degli altri ok? perché esattamente il modo per vivere una vita che fa schifo e poi non ti porta ad avere risultati con le ragazze vorresti arrivare a Natale con qualche ragazza in più con cui divertirti o addirittura una fidanzata con cui condividere il 2024 e gli anni a venire se sì puoi mettere l'acceleratore con i risultati approfittando della settimana del Black Friday dove tutti i videocorsi di approccio alla .it sono accessibili dal 40% al 70% in meno fino al 20 novembre clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni se hai domande o dubbi scrivi gratis su whatsapp a un nostro consulente esperto anche qui trovi il link cliccando qui sotto in descrizione anche nel momento in cui sei dipendente dall'approvazione della ragazza che si traduce che sei dipendente dalla reazione anche della ragazza per esempio in fase di approccio che si traduce poi nel fatto che se la ragazza mi risponde positivamente riesco a parlare se invece mi risponde un po' più fredda non riesco a conversare e cosa facciamo? quelli ti risponderanno benissimo se sei un principiante su nel 5-10% un altro 5-10% ti rifiuterà e il restante 80% in mezzo che facciamo? avranno una reazione neutrale come normale che sia perché sei uno sconosciuto che va convertito in reazione positiva ok? e se tu riesci ad andare avanti con la conversazione soltanto quando hai una risposta iper positiva e grazie al cazzo ci sembravi tutti l'abilità è riuscire a sapere avere una conversazione anche con quel restante 80% che c'è in mezzo ok? poi se sei più bravo avrai anche un 30% di risposte iper positive fin dal secondo zero ma mettiamo ok il 30% ti rispondono benissimo un 10% ti rifiuta comunque e quanto è? quindi il restante 60% in mezzo che facciamo? ci si perde una grossissima fetta di ragazze ok? se dipendi dalla reazione della ragazza se aspetti l'approvazione della ragazza e in generale dipende poi dall'alto da ricercare in generale l'approvazione degli altri ok? quindi bisogna staccarsi dall'approvazione degli altri quindi non inseguire l'approvazione degli altri anche per poi è una vita di merda la gente poi si rovina anche economicamente per inseguire l'approvazione degli altri Instagram che cos'è? ricercare l'approvazione degli altri ok? poi va bene se ho posta tranquillamente cioè se vuoi far vedere la tua vita su Instagram va bene cioè posta tranquillamente quello che ti pare anche io posto sul mio Instagram personale magari quello che faccio ok? ma lo faccio così boh non so neanche perché lo faccio in realtà sì in realtà c'è anche comunque una punta di ego di far vedere magari a chi mi conosceva in passato ah guardate brutti stronzi ho cambiato la mia vita ma in realtà cioè non c'è più questa cosa qua perché se quella lì poi la motivazione del perché fai vedere quello che fai quindi l'approvazione degli altri è una vita di merda ok? però è un passaggio necessario inizialmente sia con le ragazze sia poi magari anche quando magari mi sono trasferito a Dubai che vuoi far vedere un po' quello che fai a chi magari le persone della tua vita precedente che dicevano ah ma no no sono te cazzate ah ma trovati un lavoro vero queste cose qui e quindi voi c'è anche magari il senso di rivalsa ma poi adesso vi faccio dei esempi mi ero segnato dopo e appena ottieni un po' di risultati in qualsiasi area di vita sia quindi prima ti faccio l'esempio con le donne quando nel 2019 ho iniziato a andare a letto con tante 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 ragazze la prima cosa che facevo è che mandavo tipo le foto le facevo magari le foto nel letto con la ragazza magari facevo una foto con la ragazza così ti sfuggite e le mandavo le mandavo le foto magari censurate alle persone con cui uscivo ad approcciare ma perché uno fa questa cosa qua che va bene cioè è giustissimo fallo tranquillamente perché lo fai perché vuoi l'applauso perché non vuoi l'approvazione degli altri perché finalmente ce l'ho fatta quindi che va bene come cosa ci sta come cosa ma non deve essere poi quello che diciamo la tua motivazione per il lungo termine ok e lo capisci subito perché la cosa che vedi subito è che tanto non gli frega niente a nessuno sì qualcuno ti chiede come hai fatto qualcuno ti dice bravo ma non c'è questa reazione incredibile di come pensavi che pensavi tutti quanti sarebbero impazziti oh mio dio come hai fatto sei un grande ti fanno ti stendono il tappeto rosso queste cose qua no ok e così anche in altri ambiti di vita raggiungi magari degli obiettivi in altri ambiti di vita e obiettivi che non avevi mai raggiunto non so ti promuovono al lavoro fai l'imprenditore raggiungi magari delle cifre di guadagno che non avevi mai guadagnato guadagni che cazzo ne so tre volte cinque volte dieci volte quello che è un stipendio normale e lo fai che cazzo ne so lo vuoi far vedere ti vuoi vantare con i tuoi amici con i tuoi ex colleghi con lo fai vedere ai tuoi genitori che cazzo ne so perché vai incosciamente a ricercare l'applauso l'approvazione degli altri quindi ci sta un passaggio necessario per rendersi conto che non è quello che ti fa felice ok quindi secondo appunto ti ho detto lì con le donne lì che hanno amato le foto che i miei amici ma non è che c'è questa reazione incredibile ed esagerata quindi poi lì capisci che non è l'approvazione degli altri che ti rende felice ed è poi anche un sollievo perché cioè se devi vivere per far vedere agli altri è una vita di merda persone che quando ti ritorno sull'esempio che stavo facendo cioè le persone si rovinano economicamente per andare a far vedere agli altri uno stile di vita che magari non possono maggior parte o volte non possono neanche permettersi gente che si indebita qua a Dubai c'è pieno gente che si indebita per prendersi le macchine le supercar gente che si prende magari non so appartamenti ma anche persone normali cioè questo non è un corso sull'educazione finanziaria eccetera però così spannometricamente di solito comprarsi una casa che costa 250.000 euro che è la casa tipica magari le persone si comprano facendo il mutuo quando hai 1000 euro in banca 10.000 euro in banca anche che nei 50.000 che cazzo non so cioè la gente si fa il mutuo per comprarsi la casa non è esattamente cioè poi lì in quel caso non è che lo fanno le persone per farsi vedere però gente pari si prende la barca la macchina oppure vai in discoteca ogni sera poi qua a Dubai la gente che con le amichette una volta sono andato in vacanza in un hotel qui e e c'era c'era tipo uno che vabbè sicuramente probabilmente poteva permettersi tipo seduto su un divano nella reception era un vecchio con tipo in giacca a cravatta con tipo 5 ragazzi delle proprio strafighe che probabilmente erano delle escort sedute la gente che si rovina economicamente in questi modi per far vedere agli altri lo stia di vita gente che si compra ma anche poi più nel piccolo la gente che si deve comprare i vestiti di marca questo è un parlo di gente normalissima la gente che si compra i vestiti di marca perché così sono figo ve lo faccio vedere ai miei amici cosa serve? ognuno faccia quello che vuole se hai se hai passione per i vestiti di marca benissimo perfetto ma chiediti quante delle cose che fai le fai per per ricerca dell'approvazione degli altri e quante cose le fai perché le vuoi fare a te ti piacciono a te ti danno soddisfazione a te tanti scoprirebbero che fanno maggior parte le cose per l'approvazione delle altre persone anche le persone si rovino la vita tutta stessa non è neanche negli appunti quindi non so quanto verrà lungo questo corso però mi sono dato come obiettivo di filmarlo tutto quanto oggi in una sola giornata quindi vediamo vediamo se ce la farò fare questa impresa qui e gente che entra in una relazione che si sposa perché così i miei genitori sono contenti ma tu sei contento? gente che intraprende lavori perché così i miei nonni sono contenti se faccio l'avvocato il medico ma tu sei contento? quindi occhi perché in seguida l'approvazione altrui poi ti rovina la vita ok quindi ritornando sugli appunti questo l'ho già detto quindi quando hai bisogno dell'approvazione della ragazza quando non hai bisogno dell'approvazione della ragazza è molto attraente quindi quando le ragazze percepiscono che non hai bisogno di lei che non hai bisogno di una risposta positiva che non hai bisogno del numero di telefono che non hai bisogno di scopartela ma questo poi ci si arriva con il tempo facendo le cose correttamente è inevitabile ci sarà per forza una fase dove inizialmente sarai bisognoso è inevitabile fa parte del percorso non si può evitare poi vedremo anche come in realtà si può andare ad aggirare un pochino questa cosa ma è comunque in parte inevitabile la fase iniziale se non hai esperienza bisogna iniziare a farla l'esperienza ma quando poi non hai più bisogno della ragazza che non significa che poi non fai sesso con le ragazze eccetera però io dopo il 2019 potevo anche ritirarmi e fare il monaco su una montagna anche se non facevo sesso più per il resto della mia vita probabilmente andava bene anche così poi in realtà non è vero comunque poi alla fine il sesso è un bisogno di essere umano quindi poi se non si fa poi il sesso per diversi giorni poi di base beh non ti ho messo in questi discorsi qui però cioè non è che se uno fa un sacco di sesso per un anno allora poi non ha più bisogno di far sesso per tutta quanta la vita perché comunque l'impulso ce l'hai sempre ogni tre giorni più o meno lo sperma si continua a rigenerare quindi però nel momento in cui raggiungi un punto dove hai fatto sesso con un po' di ragazze hai quella consapevolezza dentro di te che sai trovarti ragazze quando ti pare sai andare a letto con ragazze quando ti pare si vede quando parli con una ragazza si vede che non hai bisogno di lei e questa cosa è estremamente attraente per una ragazza è un principio generale di vita quando più non hai bisogno di una cosa più attrai quella cosa più sei disperato hai bisogno di una cosa più quella cosa si allontana la repelli ok uno dei modi principali per andare a staccarsi da questa ricerca compulsiva della provazione negli altri è andare ad avere una vita appagante poi ne vedremo anche altre di modalità però una di quelle principali è andare ad avere una vita appagante tra poco non so se in questo tratto carattere qua nei prossimi comunque vedremo anche le varie aree di vita più nel dettaglio e però andare a pagare più possibile tutte quante le varie aree di vita ora però occhio perché i risultati nella vita derivano dalla focalizzazione quindi non puoi andare a cercare di fare troppe cose nella vita perché il risultato è che non riuscirai a fare niente ok quindi bisogna focalizzarsi ottenere prima un obiettivo un risultato in un certo area e poi dopo puoi passare a un'altra area ok e per esempio però la cosa dell'andare ad avere una vita appagante in generale che poi appunto diva produrre questa cosa che è fotte il cazzo di quella che è l'approvazione degli altri perché ti interessa l'approvazione di te stesso che hai una vita pagante per te stesso non che deve essere appagante per qualcun altro c'è un parente che quando vai c'è il mare non ci vado mai al mare perché non mi frega un cazzo del mare mi piace mi preferisco la piscina rispetto al mare se a uno gli preferisce il mare quando vai in vacanza lui se ne andrà al mare ma non tentare di imporre quindi qua questo si sta trasformando anche in delle parentesi anche su quella che poi dovrebbe essere l'educazione diciamo a un figlio di non imporre a altre persone barra i tuoi futuri figli degli obiettivi che non sono loro ma sono obiettivi tuoi quindi ho preferenze passioni cose tue quindi se è uno non mi fai un cazzo il mare tutto ciò era per dire che cosa che appunto la tua vita è essere appagante per te stesso non secondo qualcun altro ok quindi inizia a perseguire gli obiettivi inizia a perseguire gli obiettivi nelle varie aree di vita ok un obiettivo non è tante persone dicono di avere obiettivi ma non è vero ok a parte che si tu hai un obiettivo di base dopo un po' lo raggiungi anche quindi e un obiettivo non è semplicemente un desiderio ok un desiderio è vorrei vorrei aver successo con la ragazza non vuol dire niente non lo raggiungerai mai un obiettivo è un desiderio che è specifico e ha una scadenza quindi specifico voglio trovarmi una fidanzata che sia così così cosa tutte le caratteristiche entro giorno y entro il 31 dicembre del 2000 quel cazzo che è entro due mesi sì anche realistico ci sono per realtà altre sotto cose sotto categorie nel mettersi obiettivi che deve essere anche credibile per il tuo cervello cioè se tu non hai mai fatto un cazzo di niente con la ragazza fino ad oggi e dici voglio una fidanzata fra due mesi è possibile? sì sarà una relazione di merda sì ok perché se hai zero esperienza e ti fermi subito con la prima a meno che non ti scopi subito da zero così dieci ragazze in un mese allora si da lì dici ok ho già fatto un sacco di esperienza velocemente allora posso anche entrare in una relazione però di solito non accade che parti da zero mai avuto esperienze in un mese subito ti scopi dieci ragazze ok non credo che di aver mai visto nessuno che faccia da zero senza esperienza con le donne da zero in un mese scoparsi dieci ragazze non credo di averlo mai visto né nessuno quindi obiettivo essere specifico e avere una scadenza decidi quello che è più prioritario per la tua vita quindi fatti una lista diciamo generale di obiettivi che vuoi raggiungere inizi a scriverli così diciamo buttali giù di getto sul telefono su una lista scritta o quello che è e decidi quello che è più prioritario quello che è più prioritario significa quello che avrebbe più impatto in questo momento nella tua vita ok potrebbe anche non essere con le donne però se sei in questo corso probabilmente l'area delle donne è piuttosto prioritaria nella tua vita e come ho detto in realtà se hai obiettivi anche in termini economici lavorativi di carriera eccetera ti consiglio di farlo dopo se sei già in corso con degli obiettivi di carriera soldi eccetera va bene puoi cercare di tenerlo in parallelo però dovrei dedicare più focus e più attenzione all'area delle donne l'ho visto in tantissime persone è molto molto meglio fare prima l'area delle donne e poi dopo l'area lavorativa e dei soldi per tantissimi motivi se qualcuno ha domande puoi fare delle domande e magari farò dei video dedicati a questa cosa qua però sicuramente è un argomento interessante però adesso ci sono già troppe cose da vedere quindi fia di sua parola molto meglio che fai prima l'area delle donne anche perché il motivo principale è molto più semplice molto più semplice e immediato rispetto all'area lavorativa poi dipende anche che obiettivi hai se fare carriera nell'azienda dove lavori come magari dipendente devi diventare manager un altro conto è se devi se vuoi crearti un'azienda e essere il miliardario quindi sono due cose diverse però in ogni caso in generale richiede sempre meno tempo l'area del mettersi a posto con le donne che se gli uomini sapessero questa cosa qua studiassero facessero la cosa giusta si metterebbero a posto con le donne nel giro di qualche mese anche in un anno fai tutte le esperienze che non hai fatto nei precedenti 5, 10, 20, 30 anni purtroppo queste cose le vedi soltanto quando poi arrivi dall'altra parte quindi però messaggio perché è a zero o poco più di zero tranquillamente in qualche mese in un anno tu puoi fare tutte le esperienze che non hai fatto in 5, 10, 20, 30 anni in termini di appuntamenti andare a letto con ragazze quindi se però studi ti formi la tua formazione non si può fermare questo mini corso ok anche se sta diventando sempre più corso sempre meno mini però mi riferisco agli altri nostri corsi più più corposi più completi che sono di solito quelli magari durano 15, 20, 25 ore o magari anche di più quindi come ti ho detto inizia per seguire gli obiettivi ok ti metti una scadenza adesso non posso farlo diventare un corso sul raggiungimento degli obiettivi però già soltanto questo è più che sufficiente molte volte un desiderio che è specifico e ha una scadenza le persone hanno paura di mettersi a scadenza per questo poi ti butta addosso la responsabilità dell'obiettivo perché giorno per giorno tu vedi se stai progredendo oppure no e la maggior parte delle persone siccome poi non fanno un cazzo di niente non vogliono avere questo senso interiore sgradevole di ah non sto facendo un cazzo della mia vita che se soltanto l'utilizzassero come carburante per fare di più avrebbero una vita incredibile quindi dici giusto che ti senti male perché non stai facendo un cazzo della tua vita usa quello sentirti male come carburante per fare per iniziare a darti a fare la miglior cura per sentirsi depresso demotivato è l'azione è fare azione la cura migliore quindi nel momento in cui hai le idee chiare nella tua vita ci saranno persone a cui piaci e persone a cui non piaci saperlo già in anticipo ti fa vivere più sereno questo sempre per il discorso del fatto di non seguire approvazioni altrui non potrei mai fare tutti quanti contenti se più vai in alto nella vita più raggiungi cose in ogni ambito di vita più la tua vita è diciamo tra virgolette perfetta che poi non non so se possa diventare perfetta ma comunque non entriamo in discorsi filosofici ma più ti metti a posto su tutte quante le aree di vita e più ci saranno persone a cui non starà bene questa cosa qua per vari motivi che richiederebbe troppo tempo adesso qua andare a spiegare però molto banalmente decidi che vuoi avere una vita migliore con le donne che non vuoi più stare a perdere tempo al bar con i tuoi amici che fanno gara di rutti e guardano le fighe che passano davanti e senza farci niente già nel momento in cui tu decidi di andare per il miglior articolo ragazze sei all'interno di questo corso io non ti consiglio di dire ai tuoi amici sfigati che sto facendo un corso ho preso questo corso qui perché cosa pensi che succederà otterrai semplicemente disapprovazione ma come è normale che sia bisogna conoscere questi concetti qua in anticipo che tutte le volte che fai qualcosa fuori dall'ordinario vieni visto come matto da chi? da quelli che sono ordinari ok? ma ricordati che non riceverai mai giudizio negativo da una persona che sta facendo di più di te o sta facendo quanto te ricevi giudizio negativo soltanto da chi sta facendo meno di te o niente che sono purtroppo la maggior parte ma dall'altro lato anche per fortuna non avrebbe valore avere una vita bella e appagante con le donne in qualsiasi altro ambito di vita se tutti quanti ce l'avessero se tutti quanti avessero un sacco di donne sapranno lo scopare quando vogliono avessero una reazione felice non ci sarebbe più valore nell'avere quella situazione quindi la vita è giustissima così com'è perfetta così com'è quindi non dovrebbero tutti quanti avere risultati se no e non ci sarebbe più il gusto nell'avere risultati sarebbe la normalità e sarebbe il vanto fare schifo con le ragazze quindi non entriamo su questi discorsi filosofici quindi va saputo in anticipo questa cosa qua se no poi ti prendi male quando ci sono le persone che ti danno disapprovazione che i tuoi amici ti dicono però è normale quella cosa mi ricordo anch'io quando inizi che mi interessavo questo mondo del miglioramento con le donne e c'erano i miei amici di vecchia data che c'era uno che effettivamente che comunque aveva capito che era una cosa che esisteva era sensata che ti puoi migliorare con le donne e gli altri come tutti quanti sono truffe sono cagate dire se è te stesso aspetta che arrivi quella giusta e pensateci adesso otto anni dopo e dove sono questi qua io te lo potrei raccontare nel dettaglio ma non mi sembra poi carino non sono finiti bene quindi non entriamo adesso qua nei dettagli quindi ed è sempre così tutte le volte che vuoi fare qualcosa di fuori dell'ordinario verrai giudicato negativamente dalle persone ordinarie saperlo già in anticipo ti fa vivere più sereno ti fa andare attraverso in maniera più serena se io non sapessi che fin dal giorno 1 lo sapevo se ti esponi pubblicamente su internet tramite una presenza pubblica in questo caso per esempio con il canale youtube essendo appunto un formatore un personaggio tra virgolette pubblico non è che sono famoso quando torno a Milano magari delle volte ci sono alcuni studenti che o qualcuno mi segue a youtube che mi riconosce mi ferma per strada però non è che sono famoso a livelli VIP che non possono camminare per strada però lo sapevo già fino al giorno 1 che quando ti esponi pubblicamente su internet più sei visibile e più ci sono gli hater più c'è gente che ti attacca ti insulta che cerca anche di andare a rovinare quello che fai perché non è che è una cosa negativa lo sapevo già è tutto quanto lineare nella mia testa e infatti io non dovremmo entrare nel fatto non si può evitare di farsi condizionare negativamente se ti esponi al condizionamento sociale degli altri a giudizio negativo anche per quello tieni i tuoi obiettivi per te stesso io non leggo i commenti sotto i social da anni da in circa due anni poi delle volte ci casco e vado a vedere qualcosa però molto 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 raramente e magari ci casco per tre minuti da guardare e mi ricordo ma perché sto leggendo i commenti e subito smetto e magari non li leggo più per altri sei mesi circa due anni e della volta mi capita magari per alcuni studenti vi ricordate che ci sono i gruppi facebook i forum dove ti insultano e di più di più perché vuol dire che sto andando bene infatti poi uno dei modi per andare anche a togliersi questa ricerca dell'approvazione di altri è capire che più giudizio ricevi più giudizi negativi ricevi più vuol dire che stai andando bene più vuol dire che stai facendo qualcosa di impattante più vuol dire che stai facendo qualcosa fuori dall'ordinario ok quindi segnale positivo in realtà quindi voglio più insulti più insulti chiaramente da persone imbecilli ok non entro adesso qua in questo discorso quindi qualunque cosa farai avrai qualcuno che vorrà dare dire anche queste cose sono tutti i modi di pensare che ti vanno poi a togliere questa ricerca dell'approvazione degli altri perché capisci che non c'è modo sai qual è l'unico modo per avere l'approvazione di tutti quanti l'unico modo è perdere avere una vita che fa schifo scelta tua se farlo non farlo io scelgo di non farlo quindi come ho detto qualunque cosa farai nella vita avrai comunque qualcuno che avrà da ridire c'è una non so una storia non so se sia una favola una storia non mi ricordo dove l'avevo sentita dove c'è praticamente il padre figlia e un asino l'animale l'asino che si stanno spostando da una città all'altra a piedi con l'asino e stanno trasportando degli zaini grossissimi pesanti e ci sono quattro vignette nella prima vignetta c'è il padre che sta trasportando vado a memoria dovrei ricordarmi c'è il padre che sta trasportando questo zaino pesantissimo e padre è anziano e c'è la figlia che va sull'asino e c'è il popolo che commenta ma che bastardo la figlia fa camminare il suo padre anziano con tutto quel carico addosso secondo scenario il padre sta sull'asino e c'è la figlia giovane e magra quindi non troppo robusta nel trasportare un carico pesante e poi c'è il popolo che commenta ma che bastardo il padre trasporta la sua figlia quel carico così pesante si spezza le ossa e il terzo scenario dove sia la figlia che il padre sono a piedi e lo zaino pesante il carico pesante è caricato sull'asino che si regge a malapena in piedi perché è pesante quello che stanno trasportando e c'è il popolo che commenta ma che bastardi caricano tutto tanto quel peso sull'asino quarta vignetta dove dove entrambi padre e figlia si caricano una parte del carico addosso e l'asino ce l'hanno libero che non trasporta niente e il popolo commenta ma che deficienti hanno l'asino e non lo usano morale di tutto ciò fai quel cazzo che ti pare nella vita pertanto ci sarà sempre qualcuno che a ridire l'importante è che sei contento tu felice te e appagato te e che ottieni possibilmente anche risultati perché poi ci sono persone che sono felici nel non aver niente nel non aver risultati perché se raccontano si drogano il cervello no ma io sto bene così quando in realtà stanno benissimo non stanno bene così quindi anche questo è un codice di lettura le persone dicono no io sto bene così non è vero non ho mai sentito una persona che abbia dei risultati irrilevanti in qualsiasi ambito di vita che dica io sto bene così anche chi sta realmente bene così ma non lo dicono non è una frase che esce esce soltanto dalla bocca di persone che hanno una situazione che gli fa schifo vorrebbero di più ma non ci hanno voglia o si fanno le scuse e non si vanno a prendere quel di più e si raccontano no io sto bene così quindi questi sono tutti i codici di lettura anche se tu ti riconosci nel dire io sto bene così prenditi conto e smetti di dire frasi di questo tipo quando fai qualcosa fuori dall'ordinario vieni visto come matto questo qua l'abbiamo già visto bisogna semplicemente saperlo in anticipo le persone non vogliono che cambi questo qua potrebbe essere interessante da sapere per capire un attimo il motivo del perché poi quando intraprendi un cambiamento un miglioramento le persone intorno a te ti danno addosso le persone non vogliono che cambi perché allora devono cambiare se stessi per gestire la tua nuova persona ok perché tu cambiando te stesso stai indirettamente cambiare è positivo tantissimi non lo sanno vedono il cambiamento come una cosa negativa cambiamento il meglio quindi però siccome tu cambiando te stesso stai indirettamente forzando le persone intorno a te qui teniamo un esempio semplice dei tuoi amici sfigati al bar li stai forzando indirettamente anche loro a cambiare per gestire il nuovo te stesso e siccome le persone non hanno voglia di niente resistono al cambiamento resistono all'essere cambiate ma come è giusto che sia tu non è che stai dicendo allora cambiate anche voi però indirettamente si indirettamente lo stai facendo cambiano te stesso e mirando te stesso e quindi tentano di tirarti giù di tenerti giù insieme a loro nella mediocrità va già saputo in anticipo questa cosa perché se non la sai in anticipo ti demotivi poi magari ti demotivi lo stesso ma almeno sai il perché di queste cose e ci passi attraverso sapendo che sei sulla strada giusta ok più giudizio ricevi a parte in questo caso dei tuoi amici più giudizio negativo ricevi più sai che sei sulla strada giusta ok l'approccio mentale che devi avere ci vediamo fra sei mesi ci vediamo fra un anno ci vediamo fra due anni e poi passano otto anni ti guardi indietro e dici cazzo ho fatto la decisione migliore della mia vita parlavo qualche giorno fa con la mia ragazza e dicevo sai quella è stata la decisione più importante della mia vita e diceva è stata approcciare me ho detto no non è stata quella decisione più importante della mia vita è stata il giorno in cui ho digitato su google come rimorchiare una ragazza su facebook perché da lì poi si è innescato tutto quanto il fatto di appunto da lì poi ho entrato in gruppo facebook avevo iniziato a studiarmi a studiare questi argomenti qua a fare corsi formarmi iniziare a uscire a trovare persone giuste con cui uscire a approcciare per anni iniziare ad andare a letto con ragazze all'inizio poco poi dopo tantissime e ho diventato poi anche il mio lavoro poi indipendentemente non è che deve diventare il tuo lavoro ma anche senza che fosse diventato il mio lavoro già avevo impattato in una maniera enorme sulla mia vita e poi nel momento in cui poi entri in una relazione conoscendo come si entra in una relazione di coppia felice come ci si trova la ragazza giusta che ricordo che è spiegato nel videocorso per sempre insieme e da lì poi ti scegli la compagna di vita giusta ma tutto quanto partito da quella primissima situazione è lì quindi tutto ciò per dire che cosa ah sì per il fatto che le persone si ti rompono i coglioni ti tirano giù non voglio che cambia eccetera ma devi riuscire a fottertene di quello che ti dicono e la cosa migliore è non esporsi neanche a quel tipo di condizionamento ok quindi è semplicemente o non frequentandoli più o tanto in realtà oppure semplicemente non condividendo quello che stai facendo non condividendo le nuove obiettive cose che stai facendo esci tranquillamente ancora con i temici sfigati ma senza stare a condividere a dire ah sa che sto uscendo a approcciare ragazze veritanto ti daranno soltanto addosso ok otterrai soltanto disapprovazione poi forse quando otterrai dei risultati qualcuno di loro potrebbe convertirsi interessarsi anche anche lui ma non ci sperare ok quindi è parte della vita funziona così e la cosa anche la parte più dolorosa tra virgolette è proprio il primo salto diciamo il primo cambio di cerchia sociale perché tutte le volte che passi a un obiettivo che hai dei nuovi obiettivi automaticamente cambia anche la cerchia di persone che hai intorno puoi provare a tenerteli intorno ma poco per volta e tu a un certo punto io per i primi io ho iniziato a approcciare nel 2015 ho iniziato a interessarmi nel 2014 poi ho iniziato a approcciare nel 2015 comunque fino al 2017 comunque ancora frequentavo i miei vecchi amici ma sempre di meno cioè non è che se non è che sia una cosa volontaria perché a un certo punto loro erano al bar a perdere tempo e io ero un appuntamento con ragazze quindi non è che non è che accade in maniera forzata poi se vuoi essere più spartano e per lo tagliare i rapporti così da un giorno all'altro benissimo io lo consiglio anche però per tanto accadrà automaticamente naturalmente e va bene così cioè non bisogna frequentare non sta scritto in nessuna parte ti devi portare dietro le stesse persone per tutta quanta la vita ci sarà quel 1 2 3 amici storici che ti porterai dietro per sempre ma di solito se la tua cerchia di persone è sempre la stessa nell'arco di 5 10 20 anni o di più non è un buon segnale vuol dire che non c'è stata evoluzione perché automaticamente nell'evolverti nel migliorare cambia automaticamente la cerchia di persone e la cosa poi anche perché in realtà fare il primo salto dove cambia la tua cerchia di persone iniziale in realtà sì è un po' doloroso inizialmente difficile ma comunque non è così difficile perché al fine capisci dopo un po' che ti stai staccando da degli sfigati che non concluderanno mai niente nella loro vita quando poi magari ti passi a un secondo obiettivo a una seconda cosa non so ti sei messo a posto con le donne e devi capire che se vuoi non so passare diventare un atleta olimpionico e che ti devi allenare sette volte a settimana tutti i giorni devi avere un coach olimpionico che cazzo ne so e molto probabilmente non uscirai più tutti i giorni ad approcciare o comunque uscirai non lo so ma non ti vedrai più così frequentemente con il gruppo delle persone con cui uscivi ad approcciare e poi non capire questa cosa qua che tutte le volte c'è un cambio del gruppo di persone più non capisci questa cosa qua più rimani poi bloccato nello stesso livello ok quindi io mi ricordo questa cosa quando l'ho capita quando l'ho capita questa cosa qua perché ok ho fatto il primo step nella vita ma poi c'è costantemente un cambio di persone poi dopo ti abitui capisci e va bene così non essere diciamo attaccato in maniera sentimentale a qualunque persona incontri sul tuo percorso cioè è naturale che a un certo punto ci saranno interessi diversi prendere le testate diverse quelle persone che incontri nella vita ci saranno quelle persone che rimarranno per sempre nella tua vita ma in maggior parte non è così anche perché come ti ho detto se no è sintomatico il fatto che non c'è evoluzione nella tua vita poi un altro dei modi per andare a togliersi questa ricerca dell'approvazione degli altri è come ho già detto in realtà come ho già accennato sviluppare autostima in cui l'autostima è molto semplicemente la considerazione che tu hai di te stesso il come tu vedi te stesso la percezione che tu hai di te stesso poi si può dire in diversi modi però fondamentalmente fondamentalmente è questo ora in realtà abbiamo un corso si chiama mentalità alfa per quanto riguarda il discorso dell'autostima però ti do qua giusto uno dei principi che è fra quelli più importanti per andare a sviluppare l'autostima l'autostima si costruisce facendo azioni giuste in direzione dei tuoi obiettivi quindi innanzitutto bisogna avere degli obiettivi che abbiamo visto prima e poi fare azioni in direzione di quell'obiettivo quindi se il tuo obiettivo è perdere peso ma se facciamo stiamo qua sull'ambito ragazze e mettiamo il tuo obiettivo è andare a letto con una nuova ragazza da qua a due mesi e se adesso totalmente a zero o poco più di zero ok dovrai iniziare a uscire almeno due o tre volte a settimana non so la butto lì non verranno di solito ragazze a bussarti la porta di casa o se no dipende se ti metti sulle app di incontri dipende ci sono varie metodologie e iniziare a uscire almeno tre volte a settimana e poi non entriamo a questo qua nel quanti approcci dovresti fare eccetera però nel momento in cui tu inizi a uscire tre volte a settimana e la definisci a prima settimana anche se ancora magari non ci sono risultati in termini di numeri di telefono appuntamenti eccetera ti sentirai comunque bene in te stesso quello che cos'è è l'autostima che inizia a crescere ok e da lì ci sono tutta una serie di benefici si crea poi un circolo virtuoso dove poi un'autostima più alta ti porta a fare più azione ok e quindi l'autostima appunto si costruisce facendo azioni in direzione giusta dei tuoi obiettivi potremmo stare qua molto di più chi vuole approfondire poi si può prendere il videocorso mentalità alfa e appunto sviluppando l'autostima non dai più valore al giudizio degli altri ok quindi al giudizio o quantomeno non dai più valore al giudizio di chi non ha risultati perché è giusto non è che dei fottertene totalmente del giudizio di chiunque è giustissimo prendere in considerazione il giudizio o quantomeno il parere l'opinione quello che è di chi ha più risultati di te ok ma non a chiacchiere non a parole ok risultati dimostrati in qualsiasi ambito ti interessa ok quindi però nel momento in cui non so ci sono i tuoi amici sfigati che sono vergini hanno scopato con una ragazza che non tolta la loro vita vanno sulla troia eccetera e ti dicono ah no migliorarsi con i ragazzi devi essere te stesso aspettare di quella giusta sono tutte truffe eccetera nel momento in cui tu sviluppi un'autostima solida quindi perché veniamo intaccati dal giudizio gli altri perché appunto il giudizio gli altri quindi la considerazione che gli altri hanno di noi è qui la considerazione che io ho di me stesso è qui quindi che appunto l'autostima e quindi è chiaro che il giudizio gli altri ti va a intaccare lo senti nel momento in cui l'autostima cresce il giudizio gli altri è sempre lì un giudizio negativo da parte di chi non ha risultati e non ti va a intaccare perché non ha senso quando qualcuno mi chiede per una volta c'è un noto podcast in Italia fatto da tre idioti che non ho mai ben capito cosa fanno fanno video parlano male della gente non so non ne ho idea e un paio di anni fa tre anni fa non so non mi ricordo hanno fatto un video più pseudo diffamatorio su quale faccio io di lavoro e praticamente alcuni studenti anche non mi hanno chiesto ma come hai reagito al video lì dove ti hanno perculato una tempesta di merda e diceva in che senso quale tempesta di merda non capisco non trovo un riscontro nella mia testa non capisco di cosa stai parlando il video poi l'avevo visto per vedere cosa che dicevano ma non capisco in che senso tempesta di merda è un video non ci sono state conseguenze non capisco di cosa stanno parlando quindi perché le persone sono spaventate del giudizio agli altri ma nel momento in cui la tua autostima si alza il giudizio agli altri la gente parla male se c'è diffamazione poi si procede con azioni legali ma se no non trovo riscontro nella mia testa non capisco cosa intendi ok quindi arriva anche tu a quel punto quindi lo sviluppi arrivi a quel punto lì con l'autostima quindi ricordati ti serve soltanto la tua approvazione impara a fare le cose che vuoi tu da solo smetti di chiedere il permesso alle persone che è intocchiarente dipende in che contesto sei quindi io devo sempre specificare però poi c'è chi non capisce però per esempio tantissime persone che tutte le volte ma cosa dico ai miei genitori se vado ad approcciare ma quanti anni hai 12 cioè questo deriva dal fatto che la maggior parte di uomini anche se sono più o meno adulti 25-30 anni vivono ancora con i genitori ma anche se non vivono più con i genitori hanno sempre cosa dico ai miei genitori cosa penseranno i miei genitori ma ti vuoi fare una vita ok il fatto di continuare a ricercare anche l'approvazione degli altri è proprio il fatto che non ti sei costruito una cazzo di vita tua andare a vivere da solo iniziare a fare cose per conto tuo iniziare a fare le cose che vuoi tu da solo per conto tuo poi le persone giuste le troverai lungo il percorso quindi non è che devi fare sempre cose da solo ma se vuoi fare una cosa devi essere in grado di poterla fare anche da solo tantissime persone non sanno entrare in un ristorante da soli e ma che figura ci faccio ma con chi con chi la gente si rovina la vita se vado al cinema da solo a parte ormai non fa più nessuno non mi sa al cinema però una volta ero andato al cinema avevo messo tipo la storia su su instagram e un mio amico lì che usciva approcciare con me diceva ma con chi sei andato lì da solo è proprio strano per le persone il fatto di andare a fare cose da soli le persone non viaggiano non fanno esperienze di vita solo tutte le cose di viaggi non ho mai avuto la giusta compagnia ma tu vuoi veramente rovinarti la tua vita perché non ho avuto la giusta compagnia sai perché non hai avuto la giusta compagnia perché non sei uscito perché non hai fatto un cazzo di niente perché sei lì sul divano a vegetare ad aspettare di morire questo sta iniziando un corso di crescita personale però effettivamente c'è tanta crescita personale in questi tratti comportamentali e una volta ho sentito un formato di crescita personale che diceva la maggior parte delle persone in realtà non sono vive in realtà sono già morte semplicemente stanno aspettando di essere seppelliti ragionaci su questa frase quindi perché dal c'è molta distinzione fra il vivere e l'aspettare di morire la maggior parte delle persone stanno solo aspettando di morire non stanno vivendo non stanno facendo niente stanno solo aspettando di morire in realtà sono già morti stanno solo aspettando di essere seppelliti ok spero sia capito un attimo questa metafora qua quindi impara a fare le cose che vuoi tu da solo vedrai che ti stacchi dalla ricerca dell'approvazione per chi non vive da solo vai a vivere da solo porca trova se sei già convivente vivi quella tua fianzata devi sposare l'altro discorso lì sei già allo step dopo quindi che non deve essere per forza l'obiettivo di tutti puoi anche decidere di non sposarti mai di non fidanzarti mai ognuno faccia quel cazzo che vuole della propria vita quindi smetti soprattutto di chiedere il parere ai tuoi genitori ok i tuoi genitori 99% di volte non sanno non le sanno le cose ok soprattutto quando si tratta di raggiungere cose sono fuori dall'ordinario a meno che chiaramente non hanno raggiunto loro le cose che vuoi raggiungere ma di solito non è così a meno che non sei nato in una famiglia iper performante e raggiunto le cose che vuoi raggiungere te in quel caso perfetto ok ha senso chiedere parere consigli ai tuoi genitori ma se no la maggior parte non è che gli dai valore all'opinione dei tuoi genitori perché sono i tuoi genitori ma se hanno dei risultati normali in qualsiasi cosa nella vita non ha senso andare a chiedere tuo padre è uno sportivo di iper successo campione europeo di tennis benissimo vuoi diventare anche tu campione di tennis ha molto senso chiedergli come ci si allena ma se no no non ha senso ti diranno i parenti se devi diventare campione mondiale di tennis ti vorrai allenare tutti i giorni anche quando c'è il sole ci sono 40 gradi all'ombra e ti diranno no ma cosa vai ad allenarti sette volte a settimana fa caldo fuori stai attento poi sudi poi ti ammali ma se devi diventare campione europeo campione del mondo vince il campionato di che cazzo non ne so non ha senso ok chiaro si bisogna lavorare male fanno il massimo che possono con le risorse e le informazioni che hanno semplicemente bisogna prendere atto che bisogna stare a chiedere opinioni pareri informi dopo che hai fatto le cose ok quindi bisogna capire questa cosa qua ti serve solo la tua di approvazione ok dipende in che contesto sei se sei a lavoro chiaramente non è che puoi andare a insultare il tuo capo perché no oggi non ci sono a lavoro affanculo a tutti ma magari dipende puoi sentarti così al lavoro di solito presta attenzione soltanto all'opinione di chi ha più risultati di te soltanto a chi ha i risultati che vuoi tu in qualsiasi ambito di vita che sia con le donne che sia in qualsiasi ambito che vuoi e ricordi sempre che abbia dei risultati dimostrati non chiacchiere non che ti dice ah io mi scopo tre ragazzi al giorno ok quindi dimostrati ok per quanto riguarda me poi se in questo corso di base un minimo ti dovresti già fidare e però se non mi conosci fate guardare sul mio sito www.approccio.it sulla sezione della foto i miei risultati con le donne c'è tutti quanti i risultati dei studenti dei studenti risultati in termini di sesso ok non so questo discorso però sempre dimostrazioni di questo tipo di fatti ok non di gente perché ci sono alcuni che non parlo di formatori potrebbe capitarti capita ogni tanto la persona sento alcune volte gli studenti che mi dicono ah ma ho conosciuto questo e mi dice che si è scopato 10.000 ragazze e io dico ma io non conosco un formatore in lingua inglese che si è scopato con 1500 ragazze in 20 anni ora questo dice che si è scopato 10.000 ragazze non lo so ci sanno delle prove delle dimostrazioni cioè fatti gente che spara minchiate non credo neanche che un porno attore arrivi a scoparsi 10.000 ragazze quindi conosco diverse persone che hanno scopato con 300 400 600 ragazze e c'è gente che delle volte sento studenti che conosco persone che fanno queste sparate qua ah io mi scopo 3 ragazze al giorno e che magari intendono che una volta si sono scopati 3 ragazze al giorno quello non è impossibile ma non è che si scopano 3 ragazze al giorno tutti i giorni quindi perché diciamo questo però appunto il discorso chi dice cosa questo è un principio che ti deve guidare nella vita da chi prende consigli da chi ascoltare purtroppo viviamo in un mondo dove tutti quanti danno opinioni senza però avere dei fatti e dei risultati gente che in sovrappeso ti dà consigli sulla salute gente squattrinata che ti spiega come fare i soldi gente senza donne che ti spiega come si fa con le donne pieno più di persone perché se la gente dovesse parlare soltanto quando ha reale esperienza esperienza e risultati poi c'è anche chi ha esperienza nel fare schifo nel prendere pali e se la gente dovesse soltanto parlare quando ha dei risultati ha dei fatti dimostrati 99.9% della proporzione mondiale dovrebbe stare in silenzio e quindi per forza devono parlare parlare dare opinioni quindi bisogna stare veramente attenti il principio è sempre chi dice cosa che risultati ha la persona che mi sta parlando e se è un formatore anche e soprattutto che risultati hanno le persone a cui hanno ricevuto insegnamenti di questa persona quindi non devi fare in modo che tu piaccia a tutti ok non è possibile penso che a questo punto dovresti averlo capito ma comunque è utile che te lo ripeto qui non potrai mai avere il 100% di successo in qualsiasi cosa fai negli approcci non puoi approcciare 100 ragazze e 100 ragazze te le porti a letto ok se sei bravo sei esperto su 100 ragazze che approcci che sia di giorno che sia in discoteca te le puoi portare a letto 10 15 se sei veramente molto molto bravo e se no di meno ci arrivi per chi magari pensa che sono dei numeri assurdi è perché ancora non hai mai iniziato a approcciare 100 approcci li puoi fare tranquillamente in realtà anche in un mese quindi però non è so questo l'argomento quindi assicurati di piacere tu a te stesso ma per piacere tu a te stesso dovrai delle volte offendere gli altri ma anche li offendi perché li insulti le tue azioni offenderanno alcuni offenderanno per esempio sempre stato sul discorso dei amici sfigati le tue azioni offenderanno profondamente i tuoi amici perché quando poi inizi a fare azione anche quando ancora non hai i risultati comunque sei lo specchio del loro fallimento perché anche loro vorrebbero di più tutti quanti vorrebbero di più nella vita tanti però non sono in grado di ammetterlo e soprattutto la maggior parte delle persone non sono disposte adarsi a fare perché se ci fosse la pillolina magica dove la mandi giù e un secondo dopo hai la vita che volevi in termini di donne hai la tua fidanzata dei tuoi sogni hai un'aremma di 100 ragazze qualsiasi sia la situazione che vuoi in termini di ragazze c'è questa pillolina magica che la prendi e un secondo dopo hai quella situazione lì gratis la prenderesti? la risposta di tutti è sì perché se si tratta di non fare fatica vorrei di più quindi tutti quanti vorrebbero di più ma la maggior parte delle persone non sono disposte a fare il percorso per ottenere quel di più e quindi fate tu soltanto anche che faccia dell'azione anche quando ancora non hai dei risultati sei lo specchio di quello che vorrebbero fare loro sei lo specchio del loro fallimento ancora peggio quando poi ottieni dei risultati ok quindi sei proprio lo specchio totale del loro fallimento poi c'è qualcuno che si ravvede e viene ispirato e anche lui si mette in azione oppure al massimo poi non semplicemente non però non entriamo in questi discorsi qua perché tanto poi non è che ci sarai a contatto quando poi ti sei fatto tutto quanto il percorso hai ottenuto i risultati con le donne non tanto non ci sarai più neanche a contatto con i tuoi amici attuali molto probabilmente puoi comunque uscirci ma ci uscirai una volta ogni tanto e quando ci esci insieme non ti consiglio di parlare di approcciare ragazze ci esci per cazzeggiare va bene continuare a frequentarli per il puro cazzeggio ma sarà una volta ogni tanto ma perché accadrà naturalmente non è neanche una cosa di forzare accadrà naturalmente perché tu sarai occupato a uscire con le ragazze sarai con la tua ragazza e ogni tanto uscirai con i vecchi amici del cazzeggio e poi ti ricorderai quando vedrai il livello mentale quanto è basso e ti renderai conto ma io che cazzo ci faccio qua in mezzo però a memoria non devo più uscire con queste persone quindi e lì non sarà più neanche doloroso ti rende conto di ma c'è che non ha senso che cazzo ci faccio qui quindi come avevo detto prima in questo corso se stai bene gli altri ne hanno beneficio ho già fatto diversi esempi inizia a dire di no se non vuoi fare una cosa ok sia in generale nella vita sia poi anche con le donne ok con del buon senso se sei un appuntamento una che cazzo ne so vuole che le fai delle foto però c'è un bel panorama un bello sfondo e tu non lo vuoi fare perché se non lo so c'è la testa quadrata e dice no no ma io non posso fare queste cose qua da frocio da beta ma sei un imbecille quindi falle quel cazzo di foto falle qualche foto scherza con lei giocaci con questa cosa qui ma in quel caso ha senso sto parlando di soprattutto nella vita ma se ci sono richieste assurde da parte di ragazze ma ricordati che quando ci sono richieste assurde da parte di ragazze è perché molte volte ti sei comportato in maniera totale da zerbino ti sei posto tu in un modo che ha portato la ragazza a farti delle richieste assurde ok se no non mi ricordo di aver mai ricevuto richieste assurde da parte di ragazze mi ricordo una volta una però è una gold digger palese un appuntamento e alla fine appuntamento mi porti nel negozio e gli chiedi di comprare delle scarpe da 400 euro le cose che succedono a Dubai però una volta mi è capitato poi forse dopo faremo anche qualche esempio di situazioni di gold digger ma sono casiste che capitano ne ho 0,0000 1% dei casi quindi non stare a segarti mentalmente su questa cosa quindi e c'era una volta ho sentito questa frase qua con un no ti spicci con un sì ti impicci ok è assolutamente vero il dire di sì sempre io mi ricordo tutte le volte che torno a Milano c'è sempre un certo parente che tutte le volte scusate tutte le volte vado a trovarlo perché mi chiede sempre favori devo portare giù il cane porti tu giù il cane e sto andando a fare questa cosa qui mi porti tu queste cose qui ma se non venivo a trovarti chi te le faceva queste cose qua sempre favori così a caso e io magari sono occupato e sono andato a trovarlo a fare visita di gentilezza per andare a fare il giro dei parenti e se non andavo a visitarti chi te le faceva queste cose qua e molte volte dico no ma per che cazzo non so ma che cazzo vuoi da me c'ho altro da fare qui poi di tre volte faccio la gentilezza vado ogni tanto a trovare parenti non vivo più in Italia quindi ci sta ma che faccio però ma perché e tante persone si fanno poi rubare il tempo in questi modi quindi e come sei in generale nella vita poi lo sai anche con le donne quindi abbi le tue opinioni giustificate dai fatti questo l'ho già detto quando ti ho fatto l'esempio di quella ragazza lì che stava mettendo via i soldi per mandare i figli in università quindi gli ho dato la mia opinione sul discorso università ma giustificato da dei fatti e degli esempi ok quindi fai in modo che quando hai delle opinioni che sono in disaccordo con la ragazza fai in modo siano cose reali dove realmente hai ragione dove realmente ha senso quello che le dici non perché le dai un'opinione come fanno la maggior parte delle persone e sparano opinioni a caso che non sono supportate poi da dei fatti ti ricordo che fino al 20 novembre puoi approfittare della settimana del black friday dove tutti i videocorsi di approcciala.it sono accessibili dal 40% al 70% in meno clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni e se hai domande o dubbi scrivi gratis su whatsapp a un nostro consulente esperto anche qui trovi il link cliccando qui sotto in descrizione a un nostro canale